già sto trasmettendo dal vivo care amiche da amici spero voi vi troviate bene spegnere le luci questa mia vecchia web camera non mi consente di tenere a pc se solo le luci ai fianchi vuole anche le luci del tetto allora spero che tutte e tutti voi stiate bene faccio questa web live perché o il computer accesso e nelle ultime due settimane non ho prodotto nessun radioprogramma sprecher allora voglio condividere con tutte e tutti voi un una trasmissione vediamo un po so che in questo canale non sarete numerosi nella mia live come di solito lo siete nei miei altri canali e ogni tanto e in star e dimmi come stai da quanto tempo mi segui e sono contento ecco di incontrarti qua dicevo ho fatto dei radio podcast che ho salvato in questo canale il mio secondo canale di youtube parlando di maradona parlando di vari argomenti perché ho un radio podcast sprecher che è molto sortito e quindi parlo di tematiche varie ho parlato dell'eresia sono tutti degli episodi che se voi seguite qua in youtube oppure in sprecher come radio sante chan io potrò dargli un seguito e mi piacerebbe davvero e dargli un seguito a tutti i miei episodi che ho caricato in youtube comunque spero veramente e vivamente che questo video vi ispiri a seguirmi adesso purtroppo anche il nostro caro amico non so gambino nick gambino mi sembra che è passato mi ha salutato se ne è andato ai 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 e comunque come dire se la vi qua io avevo attivato vidi q non so che fine ha fatto niente quale con po io avevo attivato Ah, adesso mi seguono due persone. In una pagina risultano due persone e in una pagina una. Per favore intervenite nella live per dirmi cosa vi interesserebbe guardare. Vediamo, entro in VDQ. Speriamo che non mi cambi la conto, perché molte volte mi cambia la conto, da quello principale a quello secondario e viceversa. Voi dovete lasciare, quando finirà questa live, un messaggio, in modo che tutti gli altri legano il vostro intervento. Aspetta mentre intentiamo ristabilire la tua. Ecco, io spero che questo nuovo anno 2021 non sia... Io dico sempre, se deve essere così cattivo l'anno nuovo, uguale a questo, che non venga per niente. Ma invece quest'anno io mi auguro che venga proprio un anno nuovo molto migliore di questo. Innanzitutto che finisca la pandemia e poi che arrivi il vaccino e poi che non riparta un'altra pandemia, perché il rischio paventato da molti ricercatori e scienziati è che o si diversifichi molto il ceppo virale del covid-19, ed è come se ci fossero molti altri covid, oppure che arrivi un'altra pandemia. Perché i pipistrelli, i pangolini e tutte queste creature selvatiche, sono dei riservori, delle miniere di agenti patogeni, tra i quali i covid. Ma ci sono tante famiglie di covid in acquato, come dire, tutto può essere, tutto può succedere e non si sa mai quello che può, quello che può accadere, quello che ci può accadere. Io spero di non ammalarmi e che non si ammalino neanche i miei, mi dispiacerebbe molto, è inutile dirlo. Però è così, purtroppo bisogna uscire il meno possibile di casa, dicono. Ma se devi andare a fare la spesa, se devi, se devi andare a prendere i medicinali e se devi andare come dado, ha umoristicamente sottolineato, ma i permessi si devono stampare in casa. Se uno non ha il computer o non ha la stampante, si deve uscire a comprare la stampante. C'è stato un periodo di lockdown assoluto nel quale non potevi neanche uscire a comprare la stampante, il tuner, la carta. Che lo scrivevi a mano il permesso e poi a controllare il numero della certificazione e durava 24 ore. Internet cadeva e uno non sapeva come... Quando gli lo davano il permesso magari erano passate 12 ore, doveva chiedere un altro permesso, magari ti davano un limite la settimana, ma se era un'urgenza, che un'amica usciva a raccontare barzellette. E purtroppo viviamo in un'epoca che è uno sfascio, uno sfascio. Non so se sto trasmettendo o no, perché... E' qua, mi è ripartita la... Devo guardare in un altro schermo, mi si è offuscato il monitor lì. Vedo che... Senso occhiali... Mi vedo bene. Però... E non vedo lo schermo, ma fa niente. Tanto devo parlare in camera, dire qualcosa. Questi occhiali mi sono caduti per terra un sacco di volte. Già anni fa mi ci sono seduto sopra. Vedete come ho incollato la stecca? Poi cade il ponte che appoggia sul naso. Allora l'ho incollato. Per fortuna sono passati parecchi anni dall'ultima volta che l'ho incollato. Sono occhiali del 2012. Ormai mi balla la stecca così, questa qua, perché si è rotta una vite. Si è rotta una vite. Perché mi cadono a terra, perché si sono afflosciati. Per fortuna che non si sono rotti del tutto, ma stanno distrutti. Erano belli e se io gli devo cambiare le lenti non lo posso fare, perché bisogna metterli in occhiali nuovi. Se no è uno spreco inutile. Guardate qua come balla la stecca. Allora c'è questi occhiali nuovi che ho fatto nel 2017. Anche su questi mi sono seduto sopra, però sono più comodi. Guardate. Non hanno il ponte per il naso. Però mi sono seduto sopra e si sono un po' dovinati. Adesso non mi ricordo dove, ma li ho incollati qua. Che è successo con questi occhiali? Ah, adesso vedo bene. Che ci sono dei giorni in cui, siccome sono bifocali, io nel 2017 sono passato agli occhiali bifocali, ci sono dei giorni che per vedere da lontano devo vedere meglio con la parte di sotto che della lettura e per vedere vicino. Perché io avevo fatto che io leggo a mezzo metro da meno, non è che leggo con il libro appiccicato alla faccia. E adesso per vedere bene da lontano, in pratica adesso no, che strano. Comunque ero andato da un ottico e mi aveva detto che mi era aumentata la vista. Cioè, quando ho fatto questi, avevo una certa diottria che non mi ricordo quale. Quando ho fatto questi nel 2017, questi li ho fatti nel 2012, quando ho fatto questi nel 2017, mi è calata la vista. Oppure io li ho fatti fare troppo forti perché non riesco, ecco per guardare adesso lo schermo, dovrei guardare così in alto. Allora che succede? Che adesso sono troppo forti. Forse fin dall'inizio erano troppo forti. Insomma, a media distanza già devo vedere con la lente che sta giù. A larga distanza no, con quella che è la grande, la principale, quella che sta su. Però ormai sono ritornato da quelli del 2017 a quelli del 2012. E mi sento più comodo. Però in effetti quegli altri vanno bene lo stesso. Però voglio dire, ogni anno bisognerebbe cambiare le lenti, non necessariamente gli occhiali. A me mi si sono rotti gli occhiali. Quelli che andavano bene sono risultati troppo forti per vedere da lontano. A media distanza è invece troppo debole la parte di sopra. E non so se riesco a leggere con la parte di sotto della lettura. Sì, riesco a leggere. Infatti, stirando il braccio, a quasi un metro, leggo. Forse, ecco, a questa distanza non leggo. Ecco, quasi. Forse non dovevo fare, tararli per questa distanza qua. Perché adesso mi copre un draggio mediano. Cioè, per vedere da lontano un libro appoggiato lì, devo vedere con la parte di sotto. Perché mi arriva fino a questa distanza. Invece no, bisogna leggere. Quando uno legge a letto, non legge col libro stirato. E io gli ho detto, no, ma io leggo così. Io leggo con le braccia stirate. Per esempio il giornale. Ma il giornale lo leggi con la parte di sopra. Siccome non avevo esperienza di come funzionano le lenti bifocali, allora la prossima volta però mi faccio un multifocale. Sto avendo problemi anche a media distanza. Poi con questa rogna del covid, questa pandemia qua, questa schifezza, io che già sono pigro di mio e che non esco, anche se non sono contrario a andare dal medico, ma prendere turno per andare dall'oculista, che poi ti mettono una macchina elettrica che ti prende il campo visivo. Ma poi tu devi leggere il cartello in base all'interpretazione che fai delle lettere, se le vedi sfocate o no, loro ti fanno gli occhiali. E questi occhiali del 2017 me li avevano fatti troppo forti. Mi succede sempre così, li faccio fare troppo forti. Poi magari mi consumano la vista e mi abbassano le diotrie e gli occhiali. E sto facendo come mio nonno. Poi mi ritroverò a avere due o tre paia di occhiali. Infatti ho altri occhiali che sono degli anni 90, altri due occhiali degli anni 90, che negli anni 90 li cambiavo ogni due o tre anni. Anche adesso li ho cambiati. Nell'arco di tre anni, quattro. E allora andrò in giro per le varie necessità, per leggere così da vicino, da lontano. Mio nonno ci aveva gli occhiali per cercare i funghi, per guardare la tele, per leggere il giornale, ma per passeggiare. Ma non è che erano tutti nuovi e tutti tarati per varie funzioni. Ci metteva uno scotch colorato quando l'occhiale era vecchio e lui diceva, con questo faccio le parole crociate. Con quest'altro occhiale leggo il giornale, perché stirava le braccia come meno. Con quest'altro occhiale vado, quando vado in montagna a fare le passeggiate. Con quest'altro occhiale dipingo. E poi, quando non aveva tempo di farsi un paio di occhiali nuovi, gli abbinava. Allora lui, che se li scordava in giro, diceva, quando veniva a trovarci, avete visto dove ho messo gli occhiali con lo scotch rosso, il nastro blu, lo scotch trasparente? Aveva occhiali, magari la montatura era la stessa, sceglieva sempre la stessa montatura, di quelle economiche e grosse, perché una volta, negli anni Ottanta, gli occhiali erano decoccio, sembravano il fondo della bottiglia, erano di vetro, di vetro resistente, ma di vetro, non di plastico. Questi che fanno adesso. Sottili, sottili. Lui queste diottrie gli avrebbe avuto, non così sottili, ma così spessi. E quando uno già aveva 20-30 diottrie, aveva occhiali che sembravano di vetro blindez. Allora se ne metteva due o tre, tanto c'era il naso più lungo del mio, mio nonno paterno. E quindi andava avanti così, sembrava anche un po' ridicolo, anche perché poi si consumava di più gli occhi. E poi quando si faceva gli occhiali nuovi, conservava gli ultimi occhiali, li ha conservati tutti, tutti in buone condizioni. Era un collezionista di occhiali, poi li usava pure, combinandoli insieme. E a volte non riusciva a vedere, lui diceva che vedeva benissimo, combinandoli, ma a volte non riusciva a vedere ciò che c'era sotto il naso. Diceva, ma dove mi avete messo la mia settimana enigmistica? Magari noi ci eravamo già scocciati di questa storia e non gli dicevamo niente. Gira che ti gira, poi se la trovava. Ah, l'avete messa sul tavolo adesso, eh? Invece è sempre stata dalla sera anteriore lì. Che poi che ci girava intorno alla settimana enigmistica, ne comprava anche lì. Una volta nelle edicole vendevano quelle arretrate, soprattutto d'estate, e lui se ne comprava una al giorno, ma le finivano. Poi va bene, mi rimanevano a me, ma lui doveva fare la passeggiata e comprare la settimana enigmistica. E quindi molte volte, visto che già si era comprata quella della settimana, delle settimane anteriori, magari si comprava di anni anteriori. Escono una volta alla settimana, magari riusciva a trovare in edicola quelle di annate anteriori, magari le aveva già comprate, perché non faceva altro che prendere la settimana enigmistica. Però così, tanto per nostalgia, magari rifaceva le stesse cose che aveva rifatto. E come dirvi, era tutto un personaggio e mi dilettava, mi dilettava con il suo buon umore, anche se era molto broncione, era involontariamente comico, involontariamente ci aveva del buon umore. Poi, come affrontare questo periodo della pandemia? Ecco, quello che mi succede con le live, che molte volte la gente non le vede per questa ragione, che io non mi scrivo nulla di quello che dico. Poi, se le faccio in questi canali minori, succede che la gente non mi segue, perché se l'avessi fatto in un canale maggiore, magari poi da un po' di tempo, ok, comunità, community, e voglio mettere in community, però non riesco a scrivere. Volevo mettere nella community del mio canale principale, per pubblicizzarla, questa live, ma purtroppo non lo posso fare. lo dovrò fare unicamente quando 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 è santeggiato. Allora, volete intanto sapere, per quelli che non mi conoscono logicamente, quale il mio canale sempliciano, e adesso ve lo faccio sapere, sempre che chiaramente me lo permette, ho un computer del 2000 con una webcamera del 1999, no, del 2010, con una webcamera del 1999, che era del computer precedente. Questo computer si sta quasi quasi per sfasciare. Vediamo, ecco qua, questo è il mio canale che vi metto adesso, l'avrei dovuto mettere da subito, ma purtroppo vedo che questa live ha pochi sostenitori entusiasti, e allegria, non so perché Google Chrome quando vai a rivedere una pagina la deve caricare di nuovo. Comunque, veramente, ho raccontato delle aneddote per andare avanti, ma se non si presenta nessuno di quelli che mi seguono di solito, sento il cursore, non so se è il computer, questi giorni che ho in questi giorni che Google ha avuto un collasso e non si riusciva a entrare in nessun servizio di Google, perché tutto il mondo con la pandemia a caricare video, pure quelli che non lo facevano prima. Ciao ma che maniaca dai, non vedo niente, like in fiducia, grazie, 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 caro amico, e se non vedi, no adesso dovrebbe esserci, dovrebbe essersi sbloccato, adesso vedi, adesso ascolti almeno qualcosa? purtroppo purtroppo dovrò tagliare qua la live perché la gente non so perché si è fissato il messaggio volevo qua aggiungere moderatore ci ho fatto moderatore del canale ecco adesso visto che anche maker maniac dai se n'è andato ho ricevuto tre like mi sono comportato bene ho piaciuto a tre persone e adesso è arrivato il momento di accomiatarmi perché se avessi avuto più pubblico sono le undici e ventiquattro circa se avessi avuto più pubblico sarei andato avanti un'ora intera ancora un'ora sola ti darei però voglio dire che voglio dire ma lo voglio dire veramente e che ne so se lo voglio dire che per me a quest'ora 37 minuti magari non do segni di stress evidente di stress di 4 di 5 ma sto vaneggiando apertamente e quindi se nessuno mi segue più è inutile fare una live di un'ora e mezza come facevo di solito nel passato non nel passato di verdura ma nel passato siccome ho già parlato di qualcosa per quelli che vedono la live da adesso mi raccomando andatevela a vedere dall'inizio e guardate soprattutto i miei radio podcast che ho salvato in questo canale e adesso dicevo ci tocca lasciarci perché si fa fra poco mezzanotte e a mezzanotte no la notte no diceva Renzo Arpore e poi io voglio dormire perbacco acce l'erba perdendirindina acce l'erba allora vediamo un po' vi ricordo ancora una volta di seguirmi nel mio canale principale San Ten Chan e di guardare lì i miei video e qua anche di guardarli naturalmente dico tutte queste cose ma è molto probabile che che molti di voi non avranno seguito questa live fino al minuto 39 e che quelli che la vedranno quando sarà stata salvata come video ordinario non arriveranno fino al minuto 40 per ascoltare queste cose quindi come dire ormai è passato il tempo vi ho fatto vedere come editavo la live io ho parlato di una persona che è stata a me cara fresco che fa se voi volete ascoltare tutto quello che ho detto per poterlo commentare allora guardatevi la live dall'inizio e poi questa camera ogni tanto smorza perché c'è un brutto bilanciatore di luce e non so è l'unica camera che perde tonalità all'immagine allora se volete naturalmente commentare questo video propormi degli argomenti per questo mio secondo canale ho voluto fare questa live perché erano due settimane che non facevo un radio broadcast su un tema adesso invece ho fatto una specie di cazzeggio libero una specie di supercanzola è venuta una live super disorganizzata perché non mi ero preparato un argomento e poi soprattutto perché come dire il canale principale Sant'Enchan ce l'ho pieno almeno mi sono rimaste almeno due o tre premier programmate allora per non intassare di video il canale principale Sant'Enchan e perché ho già editato e pubblicato video in altri canali voi basta che cerchiate così guardate vi metto per quelli che mi stanno seguendo logicamente voi cercate con l'hashtag che non mi scrive perché si cancella il cursore voi cercate con l'hashtag Sant'Enchan ecco qua voi cercate in youtube con l'hashtag Sant'Enchan e tutto attaccato Sant'Enchan con hashtag attaccato a Sant'Enchan tutto attaccato nel campo di ricerca di youtube e vi appariranno anche i video che ho caricato nel nel mio canale nei miei canali secondari e poi cercate un hashtag uscite il però però va con una l ecco uscite il lì che però si scrive con una l tutto attaccato e questo è un hashtag che ha inventato costantino costantino questo dettaglio incresciosamente bene bene sono riuscito alegría e che ha inventato il che ha inventato Bene, bene, bene. Sono arrivato a avere 4 like e a fare 45 minuti. Veramente, che bisogna dire? Che altro bisogna dire? Basta. Che adesso veramente devo stoppare.